Oggi ci occuperemo di quello che va sotto il nome di rigenerazione urbana, che in realtà comprende molte scale, molte situazioni diverse. E forse questo va visto in termini di evoluzione culturale generale europea ma anche italiana, nel senso che il secolo scorso è stato un secolo dell'espansione a città, in particolare nelle città industriali, Milano, Torino, che dovevano dare alloggio molte persone, abbiamo fatto i quartieri, il dormitorio, le fabbriche, lo zoning e abbiamo cercato di costruire la nuova città sulla base delle funzioni, per cui il modello urbanistico è basato sul programma. Potremmo dire che questo secolo è il secolo non solo della scoperta dell'emergenza ambientale, che tutti viviamo come priorità, ma anche quello che non possiamo buttare via una città come buttare via uno smartphone, e mentre gli oggetti a tecnica hanno un'obsolescenza veloce ma vengono poi defenestrati dall'oggetto che li segue, noi viviamo ancora città fatte da persone con tecniche, desideri, aspirazioni e valori diversi dai nostri. Per cui questa riflessione ci porta a pensare che forse l'urbanistica del secolo scorso non era basata su fondamenti giusti. Il tema della lunga durata, del fatto che noi spesso utilizziamo edifici nati per funzioni completamente diversi, ma che ancora funzionano. Una volta erano le chiese e i monasteri abbandonati, oggi sono gli edifici di archeologia industriale. Per cui tutta Europa sta ragionando su questo fatto, tutta Europa sta cercando di integrare le esigenze di qualità ambientale dentro una riscoperta dell'urbanità. Un abitante dei soborghi consuma tre volte il gasolio e due volte l'energia elettrica di una città. Abbiamo scoperto che la densità è ecologica. Poi questa cosa che è un movimento più generale va articolato nelle realtà. L'Italia è piena di spazi magnifici in attesa di un certo senso di nuovi usi, anche perché sono nati in parte su modelli di vita diversi. Tutto il centro Italia costruiva per ragioni difese sui cucuzioli delle montagne, come cantava Rita Pavone, ma poi tutti sono scesi a valle e hanno comprato una villetta con due box. Il problema è che fare di questi posti bellissimi non solo in termini nostalgici. Non si può museificare tutta l'Italia, ma dandogli nuovi modi contemporanei di vivere. Oggi forse Inter ne lo permette, noi possiamo con un Macintosh vivere benissimo in una villa del Palladio. Per cui stiamo riflettendo su come, con uno sguardo moderno, vivere un'Italia, che è un posto più bello del mondo in senso ambientale.